Buonasera e benvenuti all'incontro di oggi che abbiamo intitolato Nello specchio della scuola al tempo del Covid e non solo titolo che abbiamo dato all'incontro per ricordare entrambi i volumi da cui parte questa discussione La scuola al tempo del Covid di Giuseppe Bertagna, edizione Studium che ospitiamo sulle pagine del Pulino vengo a chiamare il professor Bertagna in video per discuterne con Patrizio Bianchi che invece è autore del libro Nello specchio della scuola che abbiamo già presentato ma oggi vogliamo proprio mettere a confronto con il volume del professor Bertagna per la provenienza di ambiti diversi di pertinenza e per la stringente attualità che la scuola ci pone in necessità di discussione A moderare i due autori Francesco Magni che è il coordinatore della rivista Nuova Secondaria autore di una bella recensione su questi due libri e che coordinerà i due autori Grazie a tutti Grazie, buon pomeriggio a tutti È davvero una bella occasione quella di questa sera perché negli ultimi mesi dove il mondo intero è stato investito dalla pandemia del Covid ecco accanto a tante discussioni c'è stato un tema che è diventato centrale nel dibattito pubblico ma anche nel dibattito privato dentro le famiglie tra genitori e figli e quello della scuola che data forse per scontata per troppo tempo ecco si è dunque riscoperta centrale e questa sera ne parliamo insieme al professor Giuseppe Bertagna che è ordinario di pedagogia generale sociale all'Università degli Studi di Bergamo dove dirige anche il Centro per la Qualità dell'insegnamento e dell'apprendimento e come veniva ricordato autore del libro presso la casa editrice Studium La scuola al tempo del Covid tra spazio di esperienza ed orizzonte d'attesa insieme a lui il professor Patrizio Bianchi ordinario di economia applicata titolare della cattedra UNESCO in educazione crescita ed uguaglianza presso l'Università di Ferrara dove è stato anche rettore fino al 2010 dopodiché ha ricoperto per dieci anni la carica di assessore all'istruzione per la regione Emilia Romagna e nella scorsa primavera ha coordinato il comitato di esperti istituito dal Ministero dell'Istruzione nell'aprile 2020 il professor Bianchi è autore del libro Nello specchio della scuola quale sviluppo per l'Italia edito da Il Mulino ecco allora per iniziare il dialogo di questa sera partirei dall'attualità siamo ormai quasi ad un anno dallo scoppio della pandemia mondiale e il nostro paese segna alcuni tristi record e tra questi quello con il minor numero di giorni di scuola in presenza per la scuola secondaria siamo ancora uno dei paesi che ha chiuso di più le scuole in presenza utilizzando la didattica a distanza allora vorrei chiedere ai nostri due ospiti che cosa non ha funzionato in questi mesi e perché a quasi un anno di distanza dal primo caso di Covid siamo ancora in queste situazioni che cosa si sarebbe potuto fare che cosa invece si potrebbe ancora fare per i prossimi mesi quali sono i vostri suggerimenti e quindi partirei subito dal professor Bianchi anche perché lei professore ha ricoperto questo ruolo di coordinatore della Tax Force della scorsa primavera e quindi che cosa si potrebbe ancora fare e che cosa invece non si è fatto e che magari si poteva invece fare e si sarebbe rivelato magari decisivo e importante sì grazie innanzitutto grazie grazie veramente di questo dialogo io credo che sia straordinariamente importante in una fase come questa proprio ricostruire il valore del dialogo un dialogo poi sulla scuola che come ha detto lei prima Francesco è entrato proprio nella vita delle persone o meglio le persone hanno riscoperto come la scuola sia fondamentale e importante per le loro vite che cosa si poteva fare? noi nella commissione del 18 una commissione insediata il 21 di aprile avevamo consegnato il 27 di maggio un primo rapporto un primo rapporto che era dedicato proprio al tema della riapertura mentre il tema del rilancio della scuola nel lungo periodo era sostanzialmente affidato al rapporto finale consegnato il 13 di luglio nel rapporto di maggio noi però ponavamo alcune considerazioni e la prima considerazione che ponavamo è che la discontinuità data dal covid doveva essere il momento per un ripensamento profondo di tutte le attività didattiche dell'organizzazione della scuola dell'autonomia e anche dall'altra parte come punto fondamentale della ricollocazione della scuola al centro della vita delle comunità locali su questo avevamo poi fatto un addendo, un finale scritto dal professor Sandulli in cui proporavamo alcuni interventi di carattere legislativo ordinamentale per permettere alle scuole di agire la loro autonomia ai dirigenti di potersi assumere delle responsabilità effettivamente assumibili e anche di poter in un qualche modo permettere ad ognuno pur all'interno di una regia nazionale di poter trovare le soluzioni più adeguate ai temi del territorio per poter uscire da quella che in quel momento era una situazione ancora gestibile. Io credo che quello che è mancato è stata questa idea l'idea che bisognava intervenire sulla scuola per uscire da quello schema che e qui mi permette il professor Bertaglia uso una sua espressione da quello schema militar-fordista in cui noi avevamo collocato la nostra scuola. Invece in quel tempo prevalse anche altre visioni anche date da grandi università che proponevano di enfatizzare il carattere militar-fordista. Le soluzioni che venivano offerte in alternativa alla nostra che capisco era complicata erano soluzioni semplicistiche era un problema di fissare tutti i banchi di ordinare le entrate da una parte e uscita dall'altra era quello cioè di rafforzare quel carattere di quella scuola che sostanzialmente era già consunta molto prima della pandemia. Quindi che cosa si può fare oggi? Io credo che quello che si possa fare oggi sono cose che avevamo in mente e che avevano in mente soprattutto coloro che lavoravano di più dall'interno della scuola per poter permettere alla scuola di essere un pilastro dello sviluppo. come lei ha segnato io sono un economista e come economista mi sono occupato sempre non solo di risorse umane ma anche come le risorse umane sono fondamentali per lo sviluppo. Noi sono 20 anni 25 anni che il paese non cresce e sono 25 anni che il paese non investe in maniera adeguata in scuola. Un modo per investire nella scuola è a mio parere uno riprendere con coraggio il tema dell'autonomia l'autonomia non vuol dire abbandonare i più deboli vuol dire che il livello nazionale si assume l'obbligo di identificare quali sono gli obiettivi che tutti devono raggiungere effettivamente e mettere anche i più deboli in condizioni di poterlo raggiungere. Avevamo anche immaginato una struttura che potesse aiutare gli uffici scolastici regionali e le singole scuole che erano più in difficoltà a poterlo raggiungere. Avevamo immaginato dei patti educativi di comunità perché la scuola non vive sotto una bolla. La scuola vive nel suo territorio e su questo bisognava operare. Poi bisognava uscire dalle gabbie del Novecento cioè dall'idea che la scuola fosse cadenzata in ore in discipline in comunicanti. Questo è particolarmente vero per le scuole superiori. Quindi avevamo tentato di legare dei provvedimenti rapidi rapidissimi da attuare con interventi che alla fine non costavano ma che permettevano in qualche modo ai presidi e ai docenti di poter intervenire. Poter intervenire subito per poter realizzare all'interno di situazioni specifiche e soluzioni più praticabili mantenendo il quadro di insieme. E dall'altra parte però abbiamo tracciato anche l'idea di una riforma del modo stesso di concepire la scuola uscendo appunto dalle gare del Novecento che ormai mi sembra l'unica via possibile di uscita. Dice ma di fronte all'emergenza come si fa a ragionare nel lungo periodo? No, no. Se di fronte all'emergenza non si ragiona avendo una visione lunga si rimarrà sempre nell'emergenza e quando si rimane nell'emergenza si rimane sempre indietro. Grazie Professor Bianchi. Professor Bertagna che cosa non è stato fatto e che cosa invece si potrebbe ancora fare? Quello che non è stato fatto lo ha ben ricordato il professor Bianchi e quindi non aggiungo oscuro commento a chiaro discorso. Però mi sorprende che a un anno di distanza ancora le scuole non hanno i presidi sanitari come termoscanner medici scolastici e soprattutto tamponi 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 per aggredire immediatamente i possibili focolai e spegnerli oppure che a un anno di distanza abbiamo ancora il problema del 50 del 75% delle persone perché non siamo riusciti a trovare un aspetto organizzativo come quello che ricordava Bianchi per l'interno della scuola ma il problema dei trasporti per l'esterno alla scuola non dobbiamo dimenticare che i trasporti sono un grandissimo e grave problema. si è preferito pagare tutte quelle persone che lavoravano nel settore privato stando in cassa integrazione piuttosto che coinvolgere autobus una risistemazione dei taxi insomma qualche cosa che non in un anno ma ancora quando a febbraio dallo scorso anno era chiara la questione si poteva organizzare ma la cosa che più mi colpisce che non è stato fatto quando fu proposta almeno da me dalla rivista che partecipa a questo webinar e cioè una trattativa sindacale per concordare deroghe non chirurgiche al contratto di lavoro vigente dei docenti ora abbiamo rinunciato a diritti fondamentali che sono costati secoli di impegno e di lotte sociali e civiche per quale ragione i sindacati non sarebbero stati disponibili a ridisegnare alcuni elementi che dovevano essere ridisegnati in presenza di una pandemia parlo del calendario scolastico di una normativa per le learning in presenza e a distanza abbiamo addirittura assistito a qualche intervento che ha detto che gli insegnanti non avevano il dovere il che era vero perché non era previsto nel contratto la loro funzione a distanza se poi ritorneremo immagino sul problema della distanza ma certo non si può ridurre il tema del digitale alla distanza ma questo contratto non aveva niente dentro su questo tema io poi avevo proposto sempre alla fine di febbraio dello scorso anno di tentare di provvedere alle deficienze alle povertà che sarebbero nate alle disuguaglianze aumentate perché si inseriva in una scuola che come ricordava il professor Bianchi aveva già molti problemi e quindi non si poteva perdere l'occasione di sperimentare una cosa che io chiamai scolè estiva facoltativa proprio per combattere la povertà educativa la dispersione le carenze di apprendimento personali ma anche lo ricordava molto bene il professor Bianchi noi siamo ancora un'organizzazione scolastica centrata sulle classi che corrispondono ai plotoni le sezioni che corrispondono alle compagnie le scuole che corrispondono ai reggimenti noi abbiamo ancora le ordinanze abbiamo i trasferimenti abbiamo i comandi abbiamo i congedi vi accorgete che è linguaggio da 800 anzi da Napoleone in poi è una modalità un paradigma che il fordismo ha nobilitato in maniera fordista ma che oggi è veramente anacronistico non si può più immaginare un quartier generale che assegna alle scuole gli effettivi non in base ai problemi se usiamo la metafora militare del terreno e della specificità delle azioni che le squadre non le classi plotoni non i plotoni via militare c'erano le squadre per far funzionare anche la 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 guerra insomma e beh non ci sono le squadre le piccoli gruppi le cinque le sei le sette le otto persone che devono costituire una squadra autentica nella scuola no noi abbiamo ancora la rigidità organizzativa che impedisce di valorizzare sia il problema dell'entrata e delle uscite sia il problema dell'organizzazione ecco secondo me ha ragione il professor Bianchi è mancata visione hanno pensato che nella pandemia si dovessero irrigidire le cose vecchie invece che avere il coraggio di ribaltare un pochino i tavoli e di aggiornare la scuola a quelle che sono le sfide del nostro tempo ecco grazie proprio a proposito di questi auspicati ribaltamenti lei professor Bianchi nel suo libro scrive e cito è proprio nella crisi più profonda che si predispongono le condizioni per le trasformazioni più radicali allora che tutti noi ci si trovi in una crisi di dimensioni epocali direi che è sotto gli occhi di tutti e allora quali sono le trasformazioni radicali che lei che lei ancora si auspica diciamo che possano avvenire nei prossimi mesi quello che ha scritto che ha descritto bene prima è il professor Bertaglia cioè primo questo tema riguardante la scuola organizzata per Plutoni ricordo per usare sempre la la terminologia corrente oggi che ad esempio la entrata del personale nella scuola viene chiamato reclutamento siamo ancora al reclutamento noi degli insegnanti allora io credo che vi sia un problema primo di rimettere in condizioni le scuole di essere effettivamente autonome questo implica la possibilità di riprendere un tema sul governo della scuola noi abbiamo sostituito alla vecchia logica che vedeva il ministro il provveditore il direttore quindi la logica dei prefetti in una logica in cui oggi vede l'ufficio scolastico regionale però questo non risolve tutte le questioni bisogna riprendere questo concetto di autonomia probabilmente bisogna rivedere anche il dimensionamento delle scuole perché a volte io vedo delle scuole che sono veramente enormi in mano ad una funzione del preside dirigente a cui abbiamo detto che è diventato un manager ma qui non abbiamo dato strumenti per farlo credo che sia quindi anche un problema di rivedere le persone le figure dell'autonomia cioè come accompagnare il dirigente scolastico con una serie di figure che permettano di avere un rapporto più continuo e più continuativo col territorio ricordo semplicemente questo che ad esempio è un tema che noi avevamo trattato erano le responsabilità del dirigente ad esempio proprio di fronte alla pandemia nel momento in cui veniva esteso al dirigente scolastico la normativa dei dirigenti di impresa lui diventava responsabile direttamente di tutti i casi di pandemia che aveva nella scuola mi sembra che questo sia veramente veramente un vincolo che non può essere imposto e poi credo però che vi sia anche un tema di stabilizzazione del personale questa idea che bisogna aspettare tutti gli anni settembre per vedere come il centro assegni il personale alle diverse caserme mi sembra veramente insopportabile io credo che su questo tra l'altro proprio perché riprendendo il discorso che faceva prima il professor Bertagna sul sindacato al sindacato si sia reso conto come questa rigidità non possa più portare a nulla l'altra parte che diventa evidente è il rapporto con l'esterno il rapporto con l'esterno che è stato significato da questo dato proprio dei trasporti dei trasporti io voglio portare un dato che non riguarda la scuola prima della pandemia ce lo dice la banca d'italia le imprese che usavano il lavoro a distanza erano il 28% e questi erano essenzialmente delle attività legate più che altro a problemi di ordine sociale erano quasi tutti lavori fatti da donne che si trovavano part time o che avevano particolari condizioni di lavoro dopo la pandemia siamo all'83% delle imprese che usano il lavoro a distanza questo vuol dire che tutto sommato siamo dentro ad un cambiamento che non riguarda soltanto la scuola e non riguarda in termini marginali della scuola ma riguarda tutti i tempi della città quindi io credo che anche ragionare su base territoriale per capire come si fa a riorganizzare delle scuole che possano in qualche modo avere dei tempi adeguati al tempo che viviamo mi pare necessario infine però devo fare una considerazione riguardante proprio l'organizzazione l'organizzazione della scuola io vedo per quello che è la mia competenza ovviamente non voglio invadere le competenze di altri vedo più che altro come esperienza vedo che mentre nella scuola dell'infanzia nella primaria gli adulti di riferimento i maestri gli insegnanti lavorano molto insieme per poter svolgere una funzione educativa e vengono anche preparati per oltre ad avere una capacità disciplinare avere anche questa capacità di riuscire ad avere capacità relazionali capacità del cogliere le emozioni e di trasformare le emozioni in azione collettiva la capacità di cioè gestire una funzione educativa man mano che si sale di livello questa scompare e diventa nulla nell'università e l'università diventa assolutamente nulla la responsabilità educativa dei professori universitari tranne ovviamente pochi casi viene annullata da quella che è la competenza disciplinare io credo che vi sia a questo punto da mettere in mano anche ma questo il professor Bertagna lo sa ovviamente molto più di me anche a questo tema di formazione inserimento che diciamo reclutamento usando la parola degli insegnanti cioè ho l'impressione che sia da riproporre un modello organizzativo della scuola e un modello organizzativo anche della formazione degli insegnanti che vada al di là delle gabbie disciplinari perché ho l'impressione che queste oggi diventano veramente dei vincoli per permettere ai ragazzi di poter sviluppare soprattutto quelle capacità anche di curiosità nei confronti delle tecnologie ma direi di responsabilità perché i ragazzi devono usare meglio di noi e dall'altra parte però deve immaginare che la scuola non si debba difendere semplicemente dietro ormai il dito della mia disciplina però questa è come la vedo io da fuori però per tornare su quelle che sono le mie competenze io credo che noi dovremmo avere il coraggio di riprendere tutto il tema dei tempi della vita collettiva e i tempi della vita collettiva stanno cambiando e paradossalmente sembra proprio che la scuola non sia in grado di farlo e l'abbiamo visto quando l'uso che è stato fatto della distanza era almeno all'inizio e in molti casi semplicemente reiterativo della struttura precedente non un'opportunità per ampliare per allargare e anche per rompere dei muri però questa è la mia visione ovviamente ma il professor Bertagna sarà molto più preciso di me proprio su come intervenire su questa struttura didattica che fa così fatica ad accogliere il nuovo secolo grazie professor Bianchi per il professor Bertagna direi che continuiamo in questa in questa discussione quali sono secondo lei i paradigmi allora che potrebbero essere ripensati i paradigmi di fondo abbiamo già accennati alcuni adesso il professor Bianchi faceva riferimento anche alla struttura didattica c'è una premessa da fare noi non possiamo più cadere nell'errore di fare razionalizzazioni dell'esistente immaginando che l'esistente sia quanto di meglio abbia prodotto la storia e lo spirito umano quello che diceva il professor Bianchi cioè la visione vuol dire avere in mente quello che lui ricordava e su cui credo che difficilmente qualcuno possa essere in disaccordo salvo che abbia logiche che non sono né macroeconomiche né pedagogiche né culturali quindi bisogna avere una visione ed è per quello che rischiando la paranoia di apparire un po' un fissato anche nel libro io insisto molto sul carattere paradigmatico cioè sperimentale che poteva avere una scuolea estiva chiamata apposta scuolea estiva perché poteva essere l'occasione per sperimentare a livello organizzativo a livello territoriale a livello umano a livello di figure nuove che dovevano entrare nella scuola a livello di scelta perché non poteva essere obbligatoria quindi c'era anche il vantaggio di poter organizzare qualche cosa che fosse giocato sulla libertà e la responsabilità di cose nuove in visione e ne dico spero in breve alcune la prima è che noi dobbiamo chiudere lo ripetiamo ambedue bianchi e sottoscritto da tempo dalla scuola fordista che aveva l'ideale dell'alunno fatto in serie ovviamente con relativi scarti nella scuola italiana gli scarti sono molto più di quelli che hanno successo visto che alle lauree magistrali arrivano solo 22 ragazzi su 100 e che è poco è pochissimo anzi dove stanno tutti gli altri vuol dire che non sono eccellenti vuol dire che non sono capaci no è semplicemente che noi abbiamo una scuola che è organizzata per una produzione di massa e invece dobbiamo passare una scuola che esalta l'ideale di un alunno che ha talenti e i talenti ne siamo portatori tutti in maniera originale vanno solo scoperti e messi in azione e valorizzati e adoperati proprio perché consentono di quelle maturazioni complessive della personalità e dell'educazione che viceversa non si potrebbero mai ottenere e quindi non vuol dire fare una scuola più facile anzi una scuola molto più difficile molto più impegnativa molto più professionalizzante per la quale non servono i reclutamenti militari o i reclutamenti amministrativi o le OPE LEGIS o tutto quello che stiamo facendo adesso di concorsi o di non concorsi fatti in una maniera tecnicamente comunque analoga di quizze o di quizzini ma serve invece proprio una formazione molto diversa che bisognerebbe introdurre anche nel recovery plan perché il recovery plan che tace su questi problemi vuol dire che per vent'anni non toccheremo questa realtà ecco io vorrei solo ricordare a proposito di questa prima grande inversione che è solo la diversità delle eccellenze raggiungibili da ciascuno di noi nella società a suo modo e raggiungibile anche dalle società a ciascuna a suo modo che può creare non solo crescita ma sviluppo sostenibile per tutti e per ciascuno l'ideale del tutti uguali l'ideale dell'uniforme è sbagliato e non perché lo diceva Rousseau nel 1762 quando ha scritto proprio contro questa idea e non perché Von Humboldt ricordava Patrizio l'idea di una università un po' diversa da quella che lui ha descritto ma che purtroppo è quella reale ma Von Humboldt non aveva in mente questa università aveva più in mente la sua cioè quella in cui l'istruzione non era separata dalla cultura dall'educazione dal senso dalla prospettiva dalla visione personale cioè differenziata non uniforme lo stesso Stuart Mill pensate a Levi Strauss ecco bene Levi Strauss è proprio quello che teorizza che solo le società diverse e solo se l'incontro tra società diverse avviene può creare lo sviluppo di tutte le società e non temere questo ecco la scuola non ha ancora appreso quello che il paradigma culturale ha già realizzato la seconda linea che mi pare importante sarebbe quella di immaginare che è finito il tempo della scuola si diceva caserma ma anche monastero o grande fabbrica perché la scuola deve essere diffusa sul territorio distribuita sul territorio e nel sociale per fare la formazione che serve bisogna che ci siano gli insegnanti che ci siano gli studenti che abbiano luoghi personalizzati di poter frequentare e che abbiano laboratori e che abbiano tutte le occasioni che si vogliono ma occorre anche il digitale l'esterno che oggi è imperante ma occorre anche il sociale occorre anche valorizzare i musei valorizzare i teatri valorizzare l'esterno la città e anche questa è una cosa che da Rousseau in poi continuano a dire di Ui nel novecento per quale ragione noi abbiamo chiuso la scuola invece che aprirla immaginando che ciascuno debba dosare gli interventi interni e gli interventi esterni perché chi è più e favorito debba essere aiutato a coprire le carenze che sicuramente ha in altri aspetti e viceversa ecco è da questa nuova equilibrio tra interno ed esterno su uno sfondo che è quello del digitale che governa l'intreccio in presenza e a distanza che può immaginarsi una scuola diversa cioè una scuola campus lo si diceva nel 2001 quando la proposta fu bocciata inutilmente e in modo venturoso ma lo si è ribadito adesso cioè non si vuole una scuola aperta io direi poi che bisogna prendere atto ed è l'ultima osservazione di strategia direi che la scuola non ha più il primato dell'informazione e quello che diceva il professor Bianchi è verissimo rischiamo di essere patetici perché oggi ci sono premi Nobel che fanno discorsi parlo della sua disciplina parlo della mia parlo di tutte le discipline e si trovano in rete cose bellissime non è competendo facendo la competizione con chi è più bravo di noi a fare aspetti disciplinari che si vince la partita del prestigio della scuola l'informazione la conoscenza oggi è distribuita e quindi nella scuola bisogna invece cercare di valorizzare l'aspetto critico e cioè personale ed è capire che l'istruzione non è positiva se non è anche un alimento dell'educazione e della formazione dei singoli e delle persone in quanto tali capire che la scuola deve fare una inversione abituare a leggere in modo critico quello che c'è nella vita e farlo in un modo progressivamente più sistematico e giustificato dal punto di vista scientifico e critico e allora può ambire a svolgere quel ruolo che ha perduto perché la scuola del novecento era la scuola che aveva il primato della conoscenza e il primato dell'informazione adesso questo primato non c'è più e bisogna prenderne atto traendo le conseguenze di questa consapevolezza grazie adesso il professor Bertagna ha fatto riferimento a questa idea di scuola aperta lei professor Bianchi nel suo libro uno dei termini direi chiave che sottolinea è quello della comunità lei scrive di trovare nella scuola il battito della comunità ecco allora perché la scuola è così importante per essere questo battito che dà come linfa alla società alla comunità in cui è situata sì lei mi riporta a una delle mie esperienze personali più forti che è stato il terremoto quando io sono diventato assessore l'anno dopo una mattina il 20 di maggio è venuto il terremoto e ha coinvolto tutta l'area fra Ferrara e Parma noi ci siamo trovati sostanzialmente di colpo senza scuola proprio letteralmente senza scuola le scuole erano tutte immagibili ci siamo trovati un'area che nel suo complesso aveva più di ah sì più di quasi mezzo milione di abitanti che di fatto si era trovata senza scuola lì abbiamo visto una cosa straordinariamente interessante io lì devo dire con un po' di inconscienza mi sono rifiutato di bloccare la scuola cioè non ho dichiarato la fine della scuola e abbiamo trovato tutti i modi per fare scuola fuori dalla scuola l'abbiamo fatto con un accordo veramente intenso intensissimo con il direttore dell'ufficio scolastico regionale dell'Emilia Romagna che voglio qui ricordare che è Stefano Versari con lui abbiamo deciso che non chiudavamo mi telefonavano da Roma mi telefonavano Patrizio devi chiudere devi chiudere io dicevo scusa ma dove sei ah io sono in Senato beh stai in Senato no noi abbiamo ritenuto che abbiamo sospeso il minimo possibile abbiamo litigato con il commissario perché in prima battuta in questo paese avviene che quando c'è un'emergenza si sospendono tutte le strutture tutte le istituzioni e si commissaria tutta l'area danneggiata questa idea che nel momento in cui c'è maggior bisogno di trovare riferimento nelle istituzioni e nelle rappresentanze invece le blocchi perché ci vuole il commissario noi lì come voi sapete ci siamo rifiutati e abbiamo accettato il compromesso che il commissario fosse il presidente della regione e i subcommissari i sindaci insomma in quella situazione abbiamo cercato in tutto quello che rimaneva aperto di spostare la scuola di dentro abbiamo fatto una scuola diffusa una scuola fuori dalla scuola che non avendo più la scuola doveva riprendere la capacità di fare scuola dove era possibile e allora abbiamo trovato primo che i singoli professori erano diventati o i singoli maestri erano diventati i tutori di piccoli gruppi e con loro si sono anche inventate molte delle cose per poter anche capire anche digerire quello che stava succedendo ad esempio abbiamo trovato un momento bellissimo di scuola bellissimo su cui io sono rimasto sono ancora molto attenzionato che era la scuola di musica fratelli Andreoli e abbiamo trovato che un momento per fare comunità era suonare insieme e allora la nostra scuola è diventato il modo in cui tenevamo insieme anche tutte le persone che stavano intorno e la ricostruzione delle scuole che abbiamo ricominciato subito di fatto diventava una sorta del battito con cui la comunità nonostante il terremoto riprendeva le proprie funzioni è lì che abbiamo cognato il termine il battito la scuola e il battito della comunità ma perché avevamo chiaro che la scuola non doveva soltanto vivere di comunità ma doveva anche costruire comunità allora è anche vero che forse non facendoci comprendere ma forse questa è colpa nostra perché non siamo riusciti a spiegarlo noi abbiamo ripreso proprio il termine campus nel nostro documento noi abbiamo ripreso il termine campus abbiamo ripreso il termine di una scuola che non solo deve essere aperta ma deve essere inserita nel territorio ripeto io l'ho sperimentato in una situazione estrema se vuole però nella situazione estrema siamo usciti perché non abbiamo accettato la logica dell'emergenza né quella di tornare nella situazione di prima né quella di tornare nella situazione di prima tant'è vero perché quando poi sono arrivati i moduli i moduli ci proponevano la vecchia struttura cioè un corridoio e tutte le scuole e quello che noi abbiamo chiesto di fare era di togliere le pareti di togliere le pareti di vedere di fare anche spazi diversi anche modi diversi e quando abbiamo ricostruito le scuole le ricordo che in maniera forse incosciente il giorno del terremoto il 20 di maggio io mi sono trovato a Mirandola e gli ho detto guardate noi riapriamo le scuole il 17 di settembre e lo apriamo come dappertutto e il primo di Natale siamo tutti al coperto beh alla fine ce l'abbiamo fatta ma ce l'abbiamo fatta perché tutta la comunità era conscia finalmente l'ha diventata conscia tramite questo dramma della centralità della scuola non solo per educare i bambini ma perché era il luogo in cui le famiglie si ritrovavano le persone ritrovavano un'identità e quando abbiamo aperto la scuola noi abbiamo fatto delle cerimonie tipicamente emiliane cioè col prete col sindaco con la fascia beh insomma metà della popolazione in alcuni paesi erano musulmani perché erano immigrati e non c'è stato mai un problema perché non c'è un luogo che identifichi la comunità oggi come la scuola non è la chiesa non è il comune è la scuola e quindi abbiamo rinventato ritrovato non inventato perdonatemi ritrovato anche questo senso la scuola come il luogo identitario e poi mi permettetevi vi racconto l'ultima cosa scusatemi mi permettete proprio una a un certo punto decidiamo di riaprire il 17 di settembre perché l'abbiamo deciso il primo lunedì dopo il 15 viene il rabbino il rabbino di Bologna e mi dice Patrizio non puoi aprire perché perché è Rosh Hashanah io dico perdonami cos'è Rosh Hashanah è una festa ebraica per cui i nostri bambini non possono venire e sarebbero discriminati allora io ti domando cosa vuol dire Rosh Hashanah e lui mi dice Rosh Hashanah è la festa dell'inizio il nuovo inizio e la festa del si ricomincia e allora abbiamo fatto una cosa che sarà anche scriteriata abbiamo dichiarato Rosh Hashanah per tutti e Rosh Hashanah ci ha portato bene perché abbiamo riaperto una scuola che è stata percepita come questa scuola che costruisce la comunità scusate questo racconto ma è un racconto di vita personale grazie anche per questa sua testimonianza personale di vita prima di fare la prossima domanda al professor Bertagna ricordo a tutti coloro che ci stanno seguendo che possono commentare e fare domande noi nel frattempo le leggiamo e quindi li seguiamo ma mentre il professor Bianchi raccontava questa sua esperienza così mi veniva in mente il concetto di scuolè che il professor Bertagna illustra nel suo nel suo libro allora professor Bertagna cosa significa questa questa idea della scuolè lei prima ha citato ha accennato l'idea della scuolè estiva e come si può declinare nel contesto attuale io ringrazio Patrizio Bianchi perché ha ricordato lui che cosa è la scuolè espressione di una libertà ed espressione di una comunità che cresce e che si riconosce sempre più identitario il paradosso è che io lo dovrei ringraziare ma anche chiosare in una maniera un po' provocatoria non è che servono terremoti per migliorare la scuola non è che servono covid per sperare che la scuola possa essere diversa da quella che è oppure ci dobbiamo rassegnare come il sasso che entra nell'acqua crea dei cerchi concentrici ma poi viene assorbito e tutto torna piatto come prima non io credo anche adesso con l'esperienza del covid tornare come prima perché questo è impossibile è un bias retrospettivo che la psicologia ci dice pericolosissimo purtroppo o si torna o si va meglio di prima o si torna peggio di prima e temo che senza interventi come quelli ricordati finora noi torneremo peggio di prima e il disastro per le nuove generazioni sarà credo fortissimo perché avranno debiti enormi 170 miliardi adesso in un anno altri 220 che arriveranno e un debito pubblico esploso e dove andranno a cercare non la resilienza ma la creatività la plasticità per inventare cose nuove ecco io allora credo che la risposta venga da questo vecchio termine che lei Francesco ricordava e cioè scolè che in greco è talmente ricco di significato che i latini lo hanno tradotto con tre termini il primo è studium cioè la passione per il conoscere la bellezza del conoscere quanto tutti gli uomini amino sapere dice nell'esordio della metafisica Aristotele il secondo termine è ozium ozium che non ha niente a che vedere col reddito di cittadinanza o con queste realtà che pure esistono ma vuol dire tempo liberato tempo in cui gli uomini si sentono realizzati affermano se stessi scelgono e rispondono delle proprie scelte e infine il termine lusus che vuol dire gioco vuol dire divertimento ecco la scolè non può perciò essere confusa con la scuola che abbiamo perché io domando anche agli ascoltatori quanti ragazzi purtroppo unici sono per fortuna sono colti da stupore davanti a ciò che viene proposto mattina dopo mattina a scuola quanti ragazzi sviluppano la studiositas cioè quella attitudine a migliorare se stessi e ad appassionarsi alla vita propria e a quella degli altri con cui vivono in una relazione continua con il mondo per renderla più adatta a che tutti trovino le occasioni di crescita hanno l'occasione della sosta cioè della riflessione perché che non si può avere stupore e studiositas senza fermarsi a pensare senza riflettere e come diceva Rousseau nella scuola nella sua scuola descritta nel suo romanzo bisogna fermarsi a riflettere e questo non è perdere tempo ma è guadagnare tempo sul piano formativo non l'ossessione delle indicazioni nazionali o dei programmi o delle ore o degli esami o di queste cose ma una crescita accompagnata personalizzata e quanti vivono l'esperienza della circolarità fra insegnamento e apprendimento i greci e i latini lo sapevano perfettamente ogni sapere insegnato e Patrizio è a Ferrara non è a Bologna ma il fondatore dell'Università di Bologna lo ha addirittura messo in esergo ogni sapere insegnato è inutile se non è appreso cioè se non è carpito capire vuol dire rubare per trasferirlo nella propria coscienza e nella propria interiorità spirituale e quindi ogni apprendimento è sempre un rubare qualche cosa e ogni insegnamento è sempre un apprendimento e se gli insegnanti non apprendono a scuola vuol dire che non riescono ad insegnare e se gli studenti non insegnano a scuola ai colleghi ai compagni ai peer o anche ai docenti vuol dire che non sono studenti e quanti di questi studenti vivono l'esercizio della libertà e della responsabilità quante discipline scelgono nella loro esperienza scolastica quanta attività determinano ogni mattina nella vita della scuola quante scelte loro compiono che le ritengono come ricordava Patrizio nell'esperienza del terremoto anche dalle occasioni che nascono dalle circostanze occasioni di libertà e di responsabilità e quanto è la relazionalità che riescono ad instaurare e quindi una relazionalità che deve essere interna alla scuola ma anche e soprattutto esterna visto che non si può immaginare più un luogo chiuso diceva Platone che la paideia si fa in ogni luogo ed è sbagliato immaginare che sia fatta in un luogo questo può servire per fini diversi da quelli della formazione ma non magari per il disciplinamento o magari per qualche rapporto di dipendenza ma non per la formazione la formazione ha bisogno di questo di questa aria di questa libertà bene quante attività obbligatorie abbiamo noi nella scuola quante attività opzionali a scelta degli studenti e delle famiglie abbiamo quante attività facoltative abbiamo e chi mette ordine in queste possibilità ecco i piccoli gruppi di cui parlava Patrizio Bianchi superare il plotone tornare alle squadre se vogliamo proprio essere militari non più di 5 6 7 8 persone seguiti con continuità da una persona che ingaggia un rapporto relazionale con gli studenti che li stimola appunto all'ozium allo studium e all'usus ma li accompagna in modo educativo facendo capire che le conoscenze non sono quelle canoniche ma le conoscenze di partenza possono essere diverse e come diceva Pascal anche dalle cose più piccole si possono risalire alle cose più grandi e occorre una grande competenza intellettuale Bertagna per il professor Bianchi adesso volevo chiedere un approfondimento su uno dei dei temi centrali del suo libro il suo libro guarda la scuola soprattutto mi viene da dire da da una prospettiva economica anche e uno dei 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 nessi che lei individua è quello tra educazione e crescita economica e sviluppo sociale sostenibile allora nei prossimi mesi mi sembra che il tema della crescita della ricostruzione economica della ripartenza economica del paese sarà centrale allora quali indicazioni quali suggerimenti su questo su questo tema così decisivo grazie sì grazie di questa domanda io sono molto convinto con me una vastissima letteratura che l'educazione è il pilastro dello sviluppo lo sviluppo è fatto di persone e le persone vanno strumentate dotate di tutti gli strumenti per poter affrontare soprattutto la trasformazione il cambiamento non vi può essere cambiamento economico se non se è una popolazione che non solo si è istruita ma anche che abbia una cultura che abbia cioè la capacità di governare anche la propria capacità di giudizio la propria capacità critica noi siamo invece un paese in cui abbiamo disperso noi stiamo disperdendo una quantità di risorse che è incredibile abbiamo ridotto il numero e le aree che possono essere di traino alla ripresa economica ad un livello mai insopportabile quando si pensava un tempo che insomma se un ragazzo si disperde è un problema suo forse è anche un risultato di una giusta selezione no se tu fai così ti tagli un pezzo di opportunità di crescita e quindi anche da un'ottica economica un'ottica economica che ragiona sull'idea che lo sviluppo parte ed è fondato sulla più ampia partecipazione responsabile e attiva non della maggior parte ma di tutta la popolazione io credo che intervenire sull'educazione oggi sia lo strumento principale per far riprendere a questo paese un cammino di crescita ho ricordato prima che sono 25 anni che il nostro paese cresce meno di tutti gli altri e ricordo anche che il momento più difficile cioè dopo l'uscita della crisi del 2009 2011 abbiamo reagito alla crisi fiscale dello Stato ancora una volta tagliando risorse all'educazione ma soprattutto tagliando attenzione alla scuola e ai sistemi educativi non è stato un problema di risorse finanziarie non basta questo ma proprio abbiamo tolto attenzione e dopo 7-8 anni si paga però qua vorrei tornare sul ragionamento di prima che ha fatto il professor Bertaglia in maniera molto lucida quando tu intervieni sulla scuola gli effetti si vedono nel lungo periodo e si vedono nel lungo periodo perché nel lungo periodo o hai una riduzione del corpo sociale e quindi di quel corpo che è poi il soggetto principale l'agente dello sviluppo o un suo ampliamento noi oggi stiamo continuando a stringere stiamo continuando a limitare stiamo continuando a immaginare che il primo e il principale elemento dello sviluppo che sono le persone siano sostanzialmente non dico inessenziali ma quasi irrelevanti rispetto ai processi di crescita ma in compenso stiamo affrontando questa emergenza ancora una volta espandendo all'infinito quello che è l'indebitamento la cosa che a me mi impressiona la cosa che a me mi impressiona in questo periodo è che sembra essere sparita ogni vincolo di bilancio per cui siamo diventati come quel vecchio fumetto per cui a ogni problema si risponde con un miliardo e si aggiungono e si aggiungono tra l'altro in un'epoca in cui con la riduzione demografica con la curva demografica che stiamo vedendo vuol dire che sui nostri figli e sui nostri nipoti in realtà stiamo caricando un indebitamento che non riuscirà a essere affrontato se contemporaneamente non doteremo loro gli strumenti delle capacità per poter vedere lontano però torna il discorso di prima in fondo l'epoca il fordismo aveva un grande vantaggio perché si nascondeva dietro il dito dei tutti uguali invece il problema non è siamo tutti uguali non è che siamo tutti uguali siamo diversi io ho capelli bianchi e reglie scuri è che tutti dobbiamo avere l'eguale diritto l'eguaglianza si misura sui diritti e l'eguaglianza si misura sui diritti soprattutto nel momento in cui si rendono praticabili io trovo che invece in questa fase diciamo per una metafora di leggerezza culturale si sia persa questa dimensione la dimensione del tempo e nella dimensione del tempo scompare anche l'idea dell'investimento l'idea dell'investimento sociale nella scuola vuol dire la capacità di proiettare noi stessi in un tempo futuro che però è quello che noi siamo in grado di tratteggiare se non siamo in grado di tratteggiare ci abbandoniamo e quindi come tutti gli abbandoni ovviamente questo crea due effetti dal punto di vista macroeconomico l'incertezza quindi l'incertezza non si investe si rimane di dove si è dal punto di vista personale anche molte volte lo sconforto di fronte ad una situazione come siamo io credo che investire in scuola e investire in educazione ma non nella vecchia scuola non nel ritorno indietro nell'illusione del ma importante tornare alla normalità il professore mi disse non voglio dire chi ma voi ci state dando un rapporto troppo complicato la cosa importante è tornare alla normalità io ho risposto guardi che se noi cerchiamo questo non andremo mai non andremo mai un passo in avanti ma saremo sempre un passo indietro noi stessi non dico un gonfilo detto grazie professor Bianchi e rimanendo sulla scia di questo tema delle disuguaglianze economiche uno dei dei temi che è più discusso in questo periodo tra le famiglie tra i genitori tra gli insegnanti è sicuramente quello della didattica a distanza e allora appunto abbiamo visto in questi mesi che ci sono delle situazioni che hanno accentuato delle disuguaglianze socio-economiche educative già presenti famiglie e studenti che hanno avuto e hanno a disposizione dispositivi tecnologici scuole adeguate con connessioni docenti preparati nell'uso delle tecnologie accanto invece a situazioni dove tutto questo non è possibile allora volevo chiedere al professor Bertagna appunto in questa diatriba no a volte sembra di assistere a una lotta tra favorevoli senza se senza ma alla didattica a distanza oppure oppositori in maniera assoluta che per utilizzare le espressioni del professor Bianchi adesso aspettano il ritorno alla normalità a come era la scuola prima ecco che cosa possiamo salvare dall'esperienza della DAD della didattica a distanza e cosa invece no grazie io credo che sul tema del digitale l'Italia si sia fatta trovare molto in ritardo è dal 2001 che c'era il programma della digitalizzazione se non ci fosse stata una ripresa nel 2015 una ripresa fortunatamente avvenuta ma non sufficiente noi avremmo affrontato la situazione della pandemia e della digitale in una maniera ancora peggiore rispetto a come l'abbiamo fatto perché l'abbiamo affrontata allo stesso modo con cui probabilmente quello che rispose nel modo che ha ricordato al professor Bianchi e dobbiamo tornare alla normalità questa persona o queste persone hanno organizzato la didattica a distanza sotto questa logica cioè tornare alla normalità e di fatti che cosa hanno proposto hanno fatto concepire la didattica a distanza come il fare a distanza le stesse cose che non si potevano più fare in presenza appello assenze ore di lezione disciplinari interrogazione compiti in classe compiti domestici fino al ridicolo di prevedere studenti che passano da 5 a 6 ore dinanzi al computer come se loro non fossero capaci anche di imbrogliare la presenza e la distanza sono bravissimi in questo fortunatamente e quindi riescono a difendersi e con interrogazioni condotte in alcuni casi sono apparsi anche sui giornali con le bende agli occhi per impedire il rischio di sbirciare libri e appunti invocando per i compiti in classe la tecnologia per controllare che gli studenti non copino questo è un paradosso veramente incredibile che ha danneggiato in maniera secondo me irreparabile la mentalità degli insegnanti perché c'è una regola empirica molto semplice a mio avviso per capire come va usato la distanza e cioè che ciò che va bene in presenza e la relazione in presenza nel modo con cui si è cercato vedo tutti e due gli interlocutori di proporre il modo con cui va fatta la presenza non può andare bene a distanza cioè ciò che va in presenza non si può trasportare a distanza non a caso non si è mai parlato di didattica a distanza ma sempre di e-learning l'e-learning vuol dire che il digitale è lo sfondo è diciamo lo scenario all'interno del quale si gioca sia la presenza sia la distanza ma in presenza con il docente spero il docente governor tutor di Rousseau il docente che non è soltanto quello che entra ed esce dalle aule ma è quello che accompagna lo studente nella costruzione del suo percorso personalizzato per poter acquisire quella diversità eccellente che rende la sua presenza indispensabile per pagare i debiti del futuro che noi stiamo costruendo per loro bene questa presenza non può ripetere ciò che si fa a distanza e quindi i ragazzi a distanza devono lavorare non da soli ma in gruppo in presenza possono lavorare personalizzati in modo anche diretto e singolo con l'insegnante e con il piccolo gruppo con il medio gruppo anche con un grande gruppo ma a distanza devono lavorare in modo collaborativo in modo metodologicamente anche innovativo adoperando la ricchezza del web e la ricchezza delle occasioni che ci sono ecco io spero che l'opportunità di avere sperimentato che gli studenti non ne possono più a tal punto della didattica a distanza organizzata nella maniera con cui è stata organizzata da richiedere a gran voce di rientrare in presenza quasi a dire preferisco andare in una scuola che è tutt'altro che la scolè di cui parlavano gli antichi visto che perde nel suo percorso la bellezza di 80 persone su 100 per farli arrivare all'eccellenza ma 80 sono lasciati indietro e questo è un danno clamoroso per l'Italia per il paese e per il futuro bene se loro stessi dicono preferisco tornare in presenza ad avere quelle abitudini che bisognerebbe superare perché a distanza sono insopportabili beh vuol dire che dobbiamo renderci conto che non è nel modo con cui si è fatto che va valorizzato il digitale e che i 20 anni persi 2001-2021 per affrontare la scuola digitalizzata l'innovatività di questa prospettiva e le occasioni che servono per la riqualificazione degli insegnanti e delle metodologie didattiche possa avvenire meglio tardi che mai visto che dobbiamo ricordare il maestro Manzi in questi tempi e io spero che questo lo si capisca e il Recovery Fund possa essere un'occasione proprio perché la digitalizzazione sia lo scenario di tutti ma che aiuti a cambiare la presenza e aiuti a cambiare la distanza e faccia riscoprire una modalità diversa di insegnamento e di apprendimento che va però accompagnata con una formazione degli insegnanti molto diversa da quella a cui siamo abituati grazie professor Bertagna in questi ultimi minuti del nostro incontro ancora un paio di domande la prima al professor Bianchi lei nel suo libro invoca una fase costituente per la scuola affinché la scuola torni ad essere lei dice il motore di una crescita di un paese che da troppo tempo è bloccato ecco attorno a questa idea di una fase costituente per la scuola che cosa che cosa significa per lei come se la immagina questa fase costituente è possibile in un contesto come quello che vediamo in queste settimane ma io vedo una cosa vedo paradossalmente che tanto più il livello nazionale si sta incartando in questa crisi tanto più io vedo una quantità crescente di situazioni che proprio grazie al web si stanno creando per discutere di scuola vedo una enorme voglia da parte di molte associazioni di molte aggregazioni anche quasi spontanee non solo di insegnanti ma di persone che stanno con grande fatica però facendo il passo che descriveva il professor Bertagno noi siamo un paese in cui stiamo disperdendo le nostre risorse stiamo buttando via i nostri talenti e allora l'idea di passare l'idea di una scuola come lievito della società credo che stia cominciando a maturare io non credo che si possa fare una costituente perché in questa situazione si abbia la forza di fare cose che io avevo proposto francamente la mia non era un'intenzione di avere una pubblicazione del nostro documento per avere un titolo in più era quello di fare una base per una grande conferenza nazionale come ancora del 1990 quando l'allora ministro Mattarella lanciò una idea di una conferenza nazionale sulla scuola che però partisse dalla scuola e coinvolgesse in fondo tutti coloro che hanno a cuore il paese forse questo non si può fare in questo momento però io vedo che sarà il tantam sociale sarà l'evidenza che poco alla volta la situazione diventa intolerabile stanno nascendo moltissimi piccoli fuochi che stanno rimettendo la scuola al centro di un'attenzione sociale non lo so come si possa fare una costituente della scuola credo che però sia importante porre con grande forza l'idea che bisogna cambiare la visione sostanziale della scuola per questo la costituente io nella mia formazione di economista ho posto molta attenzione alla storia e andando a rileggere gli atti dell'assemblea costituente in un momento che dal punto di vista della tensione politica non è certamente inferiore a quello attuale e negli anni della grande frattura delle forze che avevano ristabilito l'idea di Repubblica si vedeva però come quelle stesse persone potevano anche scontrarsi sul piano della politica ma potevano trovarsi sul piano di quelli che erano i fondamenti i fondamenti della Repubblica nel senso pieno e io credo che sia questo oggi necessario e invocare una costituente non vuol dire invocare una roba campata in aria vuol dire fare esattamente il passaggio che si è detto prima cioè non pensare che rimettendo insieme i cocci di una situazione ormai consumata che possa riuscire a trovare una soluzione che possa guardare in avanti a volte a volte insistere per cambiamenti profondi può essere la soluzione più equilibrata più moderata che uno può avere c'è una moderazione anche nel richiamare soluzioni forti pesanti la conseguente vuole essere questa il ribadire quali sono i valori fondanti di questo paese e però anche intervenire sulla scuola come il valore fondante come pilastro fondante di una repubblica che non solo non lascia indietro ma che ricordi quella cosa che si dice nel secondo articolo della nostra Costituzione la repubblica riconosce i diritti di tutti li riconosce perché i diritti vengono prima non dice lo Stato dice la repubblica ma ricorda che i diritti vanno esercitati col dovere della solidarietà solidarietà non è un accessorio è illegante è quello che tiene insieme il diritto ognuno di essere diverso dall'altro e mi sembra oggi la descrizione attuale del concetto di eguaglianza il diritto di o l'eguale diritto di essere diversi che però richiede una scuola come diceva il professor Bertagna in cui si facciano contestualmente le due cose si faccia grande attenzione alla persona e quindi a un'educazione personalizzata e contestualmente un'educazione che ritrovi anche nella socialità il modo di educare insieme e di crescere insieme grazie professor Bianchi e colgo l'occasione proprio dalle dalle sue ultime parole sul riconoscere i diritti di tutti per rivolgere allora l'ultima domanda anche al professor Bertagna da un lato abbiamo questa esigenza di riconoscere i diritti di tutti dall'altro parlavamo prima dell'eccellenza del merito la nostra costituzione anche parla dei capaci e meritevoli anche se privi di mezzi e allora innanzitutto questa idea di merito o l'idea di meritorietà lei accenna nel libro e lei propone di passare dal paradigma della meritocrazia a quello della meritorietà da quello della scuola setaccio a quello che lei definisce la scuola lievito allora cosa vuol dire questo passaggio dalla scuola setaccio alla scuola lievito vuol dire visto che abbiamo anche fatto tardi spero di essere breve vuol dire rispettare un pochino la parabola evangelica che dice che tutti gli uomini nascono con un talento almeno uno chi ne ha cinque li deve mettere a disposizione di tutti gli altri perché se li mette a disposizione vengono valorizzati chi ne ha uno non può sotterrarlo deve anche lui metterlo a disposizione di tutti gli altri è dovere di questo e anzi la civiltà umana si è sviluppata proprio a partire dagli ultimi sono gli ultimi che hanno caricato la storia di progresso di sviluppo di novità e gli antropologi ci dicono che solo quando si sono trovati le prove che gli ultimi erano protetti da il branco beh allora è cominciata la crescita anche dell'uomo quindi dobbiamo rifiutare una concezione univoca del merito non sono meritevoli quelli che prendono centocentesimi e che prendono centodieci e lode perché quelli potranno essere meritevoli in un certo modo che è il loro che è quello determinato dalle scelte libere e responsabili con studiosi che hanno fatto ma il merito è anche quello di essere l'impagliatore di sedie di cui parla Leon Bluat e di cui parla anche il adesso mi sfugge cioè i talenti non sono univoci i talenti sono analoghi tutti noi possediamo un talento almeno uno e se tutti siamo messi nella condizione di svilupparlo siamo sicuri che facciamo crescere noi meglio e che facciamo crescere gli altri ancora meglio e quindi li valorizziamo perché nella questione del talento se io metto in relazione il mio talento che è uno con un altro che ne ha cinque cinque per uno fa cinque quindi vuol dire che rimane almeno i cinque ma se chi ne ha cinque trova una persona che ha sotterrato il suo talento e che è considerato che non valga nulla e quindi valga zero lo riduce a zero e questo danneggia sia chi ha sotterrato il talento sia chi ha sviluppato i propri talenti se ne esce solo insieme come diceva Don Milani ed è questo il passaggio della scuola lievito non accettare che agli studi superiori arrivino solo venticinque persone mettendo dentro le accademie e gli ITS ma devono tutti arrivare agli studi superiori a modo loro in un modo o in un altro in apprendistato o a tempo pieno facendo un percorso formativo a tempo pieno ma tutti noi abbiamo delle risorse che se non sono atrofizzate diventano uno strumento la leva per cui riusciamo a far crescere interamente noi e a far crescere gli altri e con questo auspicio io mi associo a quello di Patrizio quando invocava una fase costituente intesa nel modo che ha così chiaramente esplicitato Grazie professor Bertagna e grazie al professor Bianchi per questa occasione di dialogo di questa sera e devo davvero ringraziarvi perché avete mostrato come sia possibile a partire da prospettive differenti ma come abbiamo visto convergenti su numerosissimi punti discutere nel merito di uno dei temi centrali come quello della scuola e dell'educazione per il bene e il futuro del nostro paese e quindi direi che questo dialogo di questa sera è stato davvero ricco e interessante vi ringrazio così come ringrazio tutti coloro che ci hanno ascoltato ci hanno seguito dalle pagine social e Youtube per approfondire ai temi di cui abbiamo discusso ovviamente rimando ai due testi degli autori e niente non mi resta che ringraziare e augurare buona serata a tutti grazie grazie